Il benvenuto al professor Walter Santilli che è ordinario di medicina fisica e riabilitativa all'Università Sapienza di Roma, perché oggi parliamo di un altro disturbo frequentissimo tra voi, tra tutti voi che ci avete iscritto, di dolore alla spalla, caro professore, bentornato innanzitutto, buongiorno. Allora, professore, già questo movimento tante volte, insomma, dà fastidio farlo, no? È vero, insomma, molti di noi, soprattutto la mattina quando si svegliano, hanno difficoltà a fare queste circonduzioni delle nostre braccia. Da che cosa dipende, secondo lei? Il problema del dolore alla spalla è uno dei più diffusi nella popolazione. Non solo quando ci si risveglia, a volte durante la notte il dolore può essere molto forte e impedisce il riposo notturno, ma durante il giorno, mentre si fanno delle attività, perché ricordiamo, noi le attività le facciamo soprattutto con le mani, che sono guidate da una grande articolazione, grande intendo che è la più mobile probabilmente del corpo umano, ovvero quella denominata scapolo omerale. Perché? Nella stragrande maggioranza dei casi non è un problema grave, però è un'infiammazione dei tendini che noi diciamo della cuffia dei rotatori. Sono quei tendini che vanno ad inserirsi sull'omero, vediamo qui l'arto superiore come è articolato a livello della scapola e quindi l'omero stesso che può lavorare in funzione della disponibilità che gli dà la scapola. C'è un osso qui della scapola che si chiama cromion. Bene, perché lo voglio citare? Perché questo osso va a volte a confliggere contro i tendini della cuffia dei rotatori. Ecco il dolore. Perché si instaura o per alcuni tipi di lavoro, perché lavorano, cioè che molti lavoratori usano in maniera pesante l'articolazione della spalla. Ma anche per un altro motivo, nell'anziano ci può essere un aumento della scifosi dorsale per via dell'osteoporosi soprattutto e dell'artrosi. Questo aumento della scifosi va in qualche maniera a influenzare l'articolazione della spalla. Ecco perché negli anziani è più diffuso il problema del dolore alla spalla. Allora noi abbiamo parlato proprio della spalla, ma se il dolore nasce dal collo, ci sono anche altre cause secondo lei? Sicuramente sì, perché se il dolore nasce dal collo bisogna vedere la salute della colonna cervicale, perché dalla colonna cervicale partono le radici nervose che innervano anche la spalla. Pertanto può accadere che si confonde un dolore della spalla con il dolore e il problema cervicale. Quindi bisogna fare una visita curata, se serve delle indagini, per capire se il problema è cervicale o è la spalla. Allora rispondiamo a Maria Paola, ci scrive da Reggio Calabria e ci chiede, sento un dolore fortissimo alla spalla e un rumore tipo schiocco quando la muovo. È artrosi? Perché le persone ovviamente pensano subito all'artrosi e magari pensano a un'operazione, pensano alla protesi. Cosa rispondiamo, professore? Allora, il rumore di per sé non è una patologia. Noi vediamo anche dei ragazzi, degli adolescenti che hanno rumore alla spalla. quindi se il rumore è associato a dolore e a impotenza funzionale nell'articolazione, ci può essere una patologia. Ma non è detto che sia artrosi, anzi di solito non lo è. Può essere un problema legato proprio a quei tendini di cui abbiamo detto che si chiamano tendini della cuffia dei rotatori, che confliggendo con la cromion possono anche dare dei fastidi, ma a volte anche degli scrosci. Professore, tutto questo deve essere diagnosticato. Certo. Allora, che tipo di esami devono essere fatti? Perché sicuramente la visita clinica, voi, fisiatri in particolare, capite magari già dal movimento che tipo di dolore e qual è la causa. Ma in realtà ci sono degli esami che bisogna fare? Per esaminare le ossa della spalla conviene la radiografia tradizionale. Però in studio noi utilizziamo qualcosa di più agile per valutare i tendini e i muscoli. Cos'è? È l'ecografia. L'ecografia muscoloscheletrica consente già in ambulatorio di fare un'attenta diagnosi. Se abbiamo bisogno di un approfondimento ulteriore si può richiedere la risonanza. Però io partirei sempre con l'ecografo perché è più agile e veloce anche effettuare l'esame e non doversi prenotare a volte con mesi di attesa per poi andare a capire cosa c'è nella spalla. E magari si può intervenire anche subito se c'è qualche problema di questo. Siamo in tempo reale, diagnosi, visita clinica, quindi con un ecografo e già abbiamo delle idee chiare. Su cosa fare esattamente, su quale terapia intraprendere. Allora rispondiamo a Silvana, ci scrive da Lodi a proposito di far passare, no? Il dolore ci chiede, far passare il dolore alla spalla il ghiaccio o la borsa di acqua calda? Anche in questo caso i vecchi rimedi della nonna possono funzionare nell'immediato, professore? Io consiglio nella fase acuta usare il ghiaccio, la borsa d'acqua calda non va bene se c'è un'infiammazione in atto perché caldo su infiammazione non è l'ideale. Poi bisogna sempre aver capito che cosa c'è che provoca il dolore. Abbiamo già detto prima la sindrome della cuffia dei rodatori ma ci possono essere delle calcificazioni. Oppure la cosiddetta spalla congelata, c'è lì proprio l'impossibilità a muovere la spalla. In quel caso dobbiamo sapere che accade con più frequenza in chi ha dei disturbi metabolici. Per esempio chi è diabetico, piuttosto che chi ha una gotta, piuttosto che alcuni che prendono dei farmaci particolari possono dare anche un'artrite della spalla. Quindi va fatta la diagnosi e poi se c'è un fatto acuto, ripeto, il freddo è meglio del caldo. Il freddo è meglio del caldo. Allora iniziamo a parlare di terapie. Le cure per far passare il dolore, insomma che cosa si può fare? Oltre, abbiamo detto sicuramente l'acqua fredda in questo caso, il ghiaccio. E quale altre terapie nell'immediato possiamo utilizzare? Ma noi abbiamo tre grandi obiettivi terapeutici. I farmaci antinfiammatori che valgono anche per altre patologie muscoloscheletriche, i cosiddetti FANS o anche i coxib che poi non sono altro che degli inibitori, di alcuni mediatori dell'infiammazione e pertanto riducono a volte il dolore e l'infiammazione. Fino ad alcuni casi gravi anche il cortisone. Però queste sono terapie farmacologiche di primo acchito per pochi giorni. Poi dobbiamo ricorrere, se serve, alle infiltrazioni, poi ne parleremo credo, e poi anche eventualmente alla fisioterapia. Allora sì, prima di parlare di infiltrazione, perché bisogna capire esattamente quale sostanza, lei ha parlato di cortisone, in realtà si possono usare altre sostanze. Rispondiamo a Sabrina, ci scrive da Imperio e ci chiede, vorrei chiedere al professore per quanto tempo posso usare le pomate antinfiammatorie. Grazie. Allora, le pomate antinfiammatorie hanno un senso, ma per tempi limitati, anche perché la pomata antinfiammatoria con dei FANS dentro, trasmettono, riescono a far trasferire all'interno del corpo micro quantità di queste sostanze, di queste molecole. Pertanto, se non funziona nei primi 7-10 giorni, poi casomai arriviamo a terapie più energiche. Certo, più energiche, però ci sono anche dei prodotti naturali che si vendono, le famose pomate all'arnica. Possono funzionare? Certo, ci sono dei prodotti ottimi a base di arnica e di altre sostanze unite all'arnica che vengono usate in alcune terapie, anche chiamate omotossicologiche. E in questo senso noi vediamo degli ottimi risultati, per esempio usate molto nel post-trauma, in particolare sportivo, ecco, in cui c'è un overuse, un uso eccessivo per l'allenamento di questi distretti. si possono usare. Si possono usare. Allora, parliamo di infiltrazioni. Lei prima ha detto cortisone, parola magica per far togliere subito l'infiammazione, però bisogna fare attenzione. Allora, che tipo di sostanze vengono utilizzate durante le infiltrazioni? Allora, prima di tutto, noi quando è possibile usiamo l'ecografo per capire dove infiltrare. Per quale motivo? Perché il cortisone è utilissimo se c'è per esempio una borsite, quindi una raccolta liquida nel distretto della spalla, però se andiamo a infiltrare il cortisone nel tendine potremmo creare un danno. Quindi è importante... Infatti lo stiamo vedendo adesso, no? L'uso dell'ecografo mentre si fa le infiltrazioni. Ecco, l'ecografo ci consente di capire dove sta il tendine e dove dobbiamo iniettare. Poi il cortisone non va ripetuto continuamente, se ne fa una infiltrazione, poi casomai proprio se dovesse servire un'altra, ma poi dobbiamo ricorrere ad altri prodotti più tranquilli e in qualche maniera anche con una capacità antinfiammatoria, ma anche rigenerativa dei tendini. E questo è importante, per cui ci sono altre sostanze che possiamo utilizzare. Parliamo di fisioterapia, anche la fisioterapia ha la sua importanza per quanto riguarda il dolore alla spalla, che cosa possiamo fare? Ci sono dei macchinari, oltre alla ginnastica attiva. Allora, oltre alla ginnastica, che è un settore particolare, ma non basta dire muovi la spalla, perché ci sono alcuni movimenti che risvegliano il dolore, altri movimenti che invece lo inibiscono. Cioè tutti i muscoli abbassatori della spalla consentono un sollievo. I muscoli che sollevano la spalla possono risvegliare e accentuare il dolore. Quindi le tre cose però non vanno fatte sempre separatamente. Farmaci antinfiammatori, infiltrazioni, l'abbiamo solo accennato, ma anche l'acido ialuronico a basso peso molecolare ha una grande importanza nel trattamento dei tendini. Ultimamente anche il collagene viene utilizzato, e anche dei derivati del sangue, come la PRP, piastrine, pappa piastrinica. Ma la fisioterapia, ci sono dei mezzi fisici interessantissimi per la terapia. Per esempio le onde d'urto, oggi noi le usiamo per le calcificazioni di spalla con ottimi risultati. Sempre in ecoguida, onde d'urto focali, purtroppo sono diffuse quelle radiali che non hanno un gran significato nella terapia delle calcificazioni focali in ecoguida, se possibile con il medico. Ecco, e poi i crioltrasuoni e alcuni tipi di correnti possono essere utilizzate per ridurre il sintomo dolore. Questo è importante. Grazie, grazie di cuore al professor Walter Santilli, grazie per essere stato con noi per questi consigli.